Voglio insegnare la platea e chiedo il microfono qua perché giungiamo veramente al termine di questa giornata, di questo primo forum degli agricoltori. È stata una giornata nella quale abbiamo messo al centro chi ogni giorno fa agricoltura con fatica, con orgoglio, con competenza. È stata una giornata nella quale non ha voluto mancare il segretario della Lega che da sempre è a fianco dei contadini e degli allevatori, non ha voluto mancare questa sera per portare il suo saluto, si fermerà poi anche alla cena e allora chiedo a tutti voi un grande applauso al Vice Presidente del Consiglio, Ministro per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili, Matteo Salvini. Grazie, non sarò lungo perché è sabato sera anche per voi, per le mogli, i mariti e quindi ringrazio i sindaci, ringrazio il sindaco che ci ospita, ringrazio la Lega che fa iniziative anche al di fuori della campagna elettorale per parlare di temi concreti. Io ho ascoltato gli interventi, potevo arrivare quando toccava a me senza sapere che cosa fosse stato detto prima, ci tenevo a sentire almeno una parte degli interventi perché se uno poi guarda i programmi televisivi sulla RAI o su Discovery, il contadino cerca moglie per intenderci, è una roba bucolica, poi leggi sul Corriere ogni tanto, cambio vita, facevo il manager a Milano, facevo l'avvocato a Bergamo, faccio l'agricoltore. Molto poetico però quando arriva la pubblicità e poi parlo con molti di voi, con parecchi ci siamo visti in azienda, il contadino, l'agricoltore, l'allevatore, il pescatore anche se non è di questa zona, ha bisogno di un reddito, deve portare a casa uno stipendio e soprattutto agricoltori non ci si improvvisa perché non è un mestiere che impari dalla sera a mattina, devi essere bravo, devi far fatica, parlavo con Ettore, mi auguro che vengano date al più presto le deleghe ai sottosegretari, a Luigi, penso all'ortofrutta, penso alla quarta gamma che in provincia di Bergamo significa tanto, penso a chi dopo anni di battaglia adesso ha qualche centesimo di euro in più, quindi alla filiera del latte e a Bergamo e a Brescia ne abbiamo e ne avete fatte tante di battaglie in questi trent'anni e ringrazio chi c'era, chi c'era Alinate per chi se lo ricorda, poi ci sono settori che sono più in difficoltà, magari non prettamente lombardi, però pensavo agli amici romagnoli alla fiera Vicola che sono andato a visitare a Forlì, quindi è importante partire presto perché non c'è solo un disegno poetico, c'è anche il dovere di dare da mangiare alla propria famiglia. Io durante gli interventi ascoltavo e sono orgoglioso che nonostante una campagna elettorale difficile, un risultato elettorale sicuramente insoddisfacente, inferiore rispetto alle aspettative, a soli due mesi dal voto, perché io e Roberto siamo al Ministero da 28 giorni, mi sembra che siamo passati due anni, però siamo lì da 28 giorni e mi sembra che l'Italia abbia colto che l'aria è cambiata e mentre qualcuno ha chiacchierato per anni o continua a chiacchierare di autonomia, io penso che il Ministro Calderoli sarà quello che dopo decenni di attesa l'autonomia la porta a casa. Non c'è bisogno di fare il post su Facebook o il tweet. Per fare l'autonomia devi lavorare come un mulo, devi incontrare, devi ascoltare. Io mentre interveniva Tiglio, mentre interveniva Fabio, sono combattuto da segretario della Lega fra un ottimo assessore regionale all'agricoltura e un ottimo sindaco di Brescia. Poi sceglieranno Fabio e sceglieranno i cittadini, però in entrambi i casi sceglieranno bene. Stavo messaggiando un po' maleducatamente perché c'è la manovra economica che arriva in Consiglio dei Ministri lunedì, voi la vivete con i telegiornali più o meno informati o male informati e leggendo i giornali quasi sempre male informati, però la stiamo costruendo con difficoltà perché è chiaro che se il 90% delle risorse vanno giustamente in bollette, in costo energia per le aziende agricole, per le aziende, per i negozi, per le fabbriche, per le famiglie, la coperta poi è corta. Io faccio il Ministro delle Infrastrutture. Ho trovato centinaia di opere pubbliche ferme al Ministero, più di cento opere commissariate. Poi vai a vedere chi sono i commissari. In alcuni casi, io non so la norma come l'abbiano inventata, ci sono persone che sono commissarie contemporaneamente di 13 opere pubbliche in giro per l'Italia. È difficile far le robe così. Mi sono informato perché domani mattina torno a Treviglio, sindaco, mi dà la cittadinanza onoraria, sabato sera e domenica mattina per il congresso che eleggerà il nuovo segretario provinciale della Lega e sono orgoglioso che proprio Bergamo sia la prima provincia che darà il segnale a tutta Italia che dopo sto maledetto Covid si riparte. Qualche giornalista scriveva ma perché non avete fatto i congressi? Non si era accorto che sia stati chiusi in casa per due anni. Cioè fare i congressi provinciali mentre c'era l'Italia ferma per Covid sarebbe stato abbastanza bizzarro. E riparte Bergamo che ha più di 1200 militanti. Torno domani mattina. Ma siccome mi piace venire con cose concrete, fra le opere commissariate c'è la Lecco Bergamo da X anni, c'è la Ferrovia. Io ho convocato e venuta in settimana l'amministratrice delegata di RFI e partono le gare a Dio piacendo entro la fine di quest'anno, non dei prossimi anni, ad esempio per il collegamento fra Bergamo e Orio Alserio per collegare l'aeroporto alla città. Riparte anche la ferrovia da Ponte San Pietro e lì c'era un vincolo su un sopralzo perché il problema è che molte di queste opere sono ferme per ricorsi. Lo dicevo a Ettore c'è un ponte, non nella Bergamasca ma in Sardegna, chiuso da mesi e io ho chiesto, io vado lì, io sono pignolo, mi sto spulciando una per una queste cento opere pubbliche come serate ponti, viadotti, dighe. Cioè questo ponte è chiuso da mesi nel cuore della Sardegna con già il progetto approvato e finanziato, bisogna abbatterlo e ricostruirlo lì dov'è, non devi fare altre cose. Però manca il parere positivo del Ministero dell'Ambiente. E ho detto perché manca il parere positivo del Ministero dell'Ambiente? Perché pare che sotto il ponte ci siano delle rane, ci sono le rane, sotto il ponte ci sono delle rane e quindi ci sono questi cittadini sardi, cittadini italiani, cittadini europei che nell'anno del Signore 2022 hanno da mesi il ponte chiuso perché non si può far niente, perché pare che sotto ci stiano delle rane. Ecco in un paese normale magari tu accompagni tranquillamente, docilmente le rane dieci metri più in là, ricostruisci il ponte e poi le rane tornano sotto il ponte. Ecco ma questo è uno dei tanti esempi di qualcosa che non va e come diceva Roberto, noi siamo testoni e il mio impegno è che alla fine dei cinque anni non ci sarà più un solo cantiere fermo in tutta Italia da nord a sud. Perché far partire un cantiere significa far lavorare la gente. Qua l'abbiamo visto, le vicende della Piedemontana, io lunedì ho finalmente inaugurato, non merito mio, merito di chi c'era prima, la tangenziale a Paderno Dugnano per finire l'anello nord, a martedì ero a Monfalcone, una nave da crociera da un miliardo di euro prodotta da un cantiere italiano, giovedì il ponte di Ariccia, un altro ponte Anas vicino a Roma. Stamattina ero a Venezia, al Mose, opera incredibile di ingegneria pazzesca, 5 miliardi di euro ben spesi e guardate Tg perché ero lì con l'ammiraglio, con Zai e col sindaco, stando al meteo, allo scirocco e alle maree, pare che martedì mattina intorno alle 8 e mezza si rischi un metro e mezzo di marea su Venezia, però grazie a questa opera di straordinario ingegno lunedì mattina Venezia verrà messa al sicuro. Non dobbiamo porci dei limiti. Io questa settimana intervenendo a un convegno a Roma ospite del messaggero ho detto mi piacerebbe a proposito di innovazione, ne parlava Rolfi, ne parlava Prandini, a proposito di innovazione, di genialità, di inventiva, mi piacerebbe che un genio assoluto come Elon Musk, uno che vuole portare l'uomo su Marte, venga a investire in Italia, ha twittato e io spero che ci arrivi il prima possibile perché le porte italiane devono essere aperte ai geni che ci portano soluzioni, innovazione, lavoro, prodotto e non schifezze da laboratorio. La carne sintetica se la mangiano loro e la danno ai loro figli. Il latte senza vacca, il vino senza uva e quelle porchere. Poi io sono democratico, noi siamo per l'autonomia, se vuoi mangiarti gli insetti a colazione, pranzo e cena, mangiati gli insetti a colazione, pranzo e cena. Io sono andato a fare la spesa stasettimana a Roma finendo la riunione che abbiamo fatto, sono andato ahimè in un supermercato, io cerco sempre di andare nei negozi, però alle nove di sera è difficile trovare il negozio aperto e mi sono incazzato con un bufalo perché vicino a casa mia c'era l'etichetta sul Nutri-Score. A Roma, adesso, che voleva spiegarmi che cosa faceva bene e che cosa faceva male. Questi non sono interessi dei consumatori, questi sono interessi delle multinazionali che vogliono fare soldi sulla pelle dei consumatori e degli agricoltori. E per quello che mi riguarda non è l'Italia il posto dove si eserciteranno con le loro cose. Quindi diciamo che arrivare qua, potendo parlare al telefono con il Ministro dell'Economia, con Giancarlo Giorgetti e ragionando di manovra di bilancio, di legge Fornero, avevamo preso l'impegno in campagna elettorale, se il Governo non fosse intervenuto il primo gennaio entrava in vigore la legge Fornero che significava andare in pensione a 67 anni, siccome ogni promessa debito in manovra di bilancio ci sarà lo stop alla legge Fornero e l'avvio di quota 41. Come avevamo promesso e come ci eravamo impegnati a fare, così come ci sarà l'aumento del tetto della flat tax, la pace fiscale e in tanti imprenditori agricoli mi hanno detto rivedete sto reddito di cittadinanza perché da noi la gente non viene più a lavorare, prevediamo alla norma, rifiuti un posto di lavoro, perdi qualsiasi contributo a spalle del cittadino. Quindi se dici di no a un'offerta di lavoro è una scelta, però ci sono anche altre sorprese da questo punto di vista che arriveranno nelle prossime ore. Comunque diciamo che come lega riuscire a parlare con il Ministro dell'Economia, contare al Ministero dell'Interno su una persona brava e capace che a differenza di chi ha dormito per i tre anni precedenti è tornata a ridare orgoglio al nostro Paese e a difendere i confini del nostro Paese. L'immigrazione va controllata, qualificata e gestita come fanno tutti gli altri Paesi europei. Quindi diciamo che in questi 28 giorni abbiamo fatto capire che qualcosa è cambiato, i media cercano di esercitarci in un giochino, è l'unica cosa che gli è rimasta, cercare di dividerci. hanno sbagliato a capire per quello che mi riguarda con Giorgia e con Silvio andiamo avanti d'amore e d'accordo per almeno cinque anni. Non ci divide nessuno, né in Regione Lombardia né a livello nazionale. I patti andranno mantenuti, l'autonomia non toglie niente a nessuno. Stavo messaggiando col Governatore Occhiuto della Calabria mentre stavamo parlando per cercare i fondi necessari per la statale 106 Ionica. Ormai mi alzo la mattina con un ponte, con un viadotto, con una ferrovia, però il bello è questo. L'autonomia significa permettere a chi è più in forma di cominciare a correre per fare in modo che anche tutti gli altri possano godere della stessa velocità. Quindi nessuno ci perde un centesimo di euro. Ecco, gli unici che hanno qualcosa da perdere sono i politici incapaci e sono i burocrati dello Stato centrale, perché sicuramente gli unici che hanno da perdere sono questi soggetti. Poi i cittadini lombardi, come i cittadini calabresi, come gli abruzzesi e come i piemontesi hanno solo da guadagnare da una macchina amministrativa più veloce, più rapida, più trasparente. Roberto ha fatto bene a dire, e bisogna superare le ipocrisie del passato, siccome più di 5.000 comuni italiani hanno meno di 5.000 abitanti, qui non tutti sono Milano, Bergamo, Torino, Palermo, Bologna. Serve un ente intermedio che faccia da relazione fra il comune di 1.000 abitanti in Val Seriana e la regione Lombardia di 10 milioni abitanti, cancellare le province è stata un'enorme sciocchezza, che non ha fatto risparmiare neanche un euro e ha lasciato strade provinciali e scuole secondarie senza manutenzione. Quindi ha più senso reintrodurre le province, però non con le elezioni di quarto profilo, rompendo le scatole al consigliere comunale, facendole eleggere direttamente dai cittadini, come i cittadini dovranno eleggere il Presidente della Repubblica. Quindi torniamo a dare un ruolo attivo e siamo lì da 28 giorni, mi fanno impazzire alcuni giornali, oggi leggevo un giornale che diceva c'è questa strada ferma, Salvini non ha ancora fatto niente, cazzo sono lì da tre settimane. La strada è ferma da 30 anni, però quelli della Lega, noi siamo bravi, però in 30 giorni non riusciamo a fare quello che non hanno fatto gli altri in 30 anni. Però stupiremo, il 5 dicembre sarò a Bruxelles perché ci sarà la riunione dei ministri europei dei trasporti, ci sono i lavori sul Brennero, il tunnel di base del Brennero, che qualche mio predecessore pensavo fosse finito, invece non è finito, stanno ancora scavandoli sotto il Brennero. Ho incontrato i Presidenti delle province di Trento, Bolzano, l'assessore dell'Emilia Romagna, il sindaco di Verona, il sindaco di Mantova per il rinnovo dell'A22, per far partire alcune infrastrutture, c'è la Cispa Dana, c'è la Campogagliano Sassuolo in Emilia che anche lì attendono in settori produttivi da una vita. Ovviamente con un occhio particolare agli imprenditori agricoli, questo anche per quanto riguarda l'energia, io sono per ogni tipo di fonte energetica possibile e immaginabile, quindi va bene il fotovoltaico, va bene l'eolico, va bene i pannelli solari, però senza rubare spazio, ossigeno, terra, erba e campi agli imprenditori agricoli italiani. Si possono mettere sui tetti, si possono mettere sulle fabbriche, altrimenti il disincentivo a produrre e a coltivare la terra è un'altra forma insidiosa di reddito di cittadinanza, perché purtroppo con questo sistema economico e con questo sistema dei prezzi e con la grande distribuzione che non sempre paga quello che dovrebbe, a volte ti viene più conveniente tagliare la pianta che andare a raccogliere il frutto, a battere il capo piuttosto che andare a mungerlo, quindi restituire il diritto al reddito, il diritto al guadagno, il diritto al profitto, alla ricchezza, non sono brutte parole, se uno va a lavorare, va a lavorare per guadagnare, non va a lavorare perché non altro, c'è cosa faccio stamattina? C'è vado in azienda agricola alle 4, come hobby, se ci vai alle 4 è perché evidentemente hai la passione, ma devi portare a casa i danè, quindi il lavoro merita tutto il giusto riconoscimento, il 5, ripeto, andrò a Bruxelles, la Torino-Lione, il tunnel del Brennero, in Lombardia ci saranno le Olimpiadi grazie alla piccola Grande Lega, qua nel 2026 arriveranno milioni di turisti che lasceranno denari sui territori e che mangeranno i prodotti della nostra terra, però anche lì bisogna correre sulle infrastrutture che ancora mancano, la Gronda di Genova, il 4, domenica 4, andrò a Genova, il terzo valico, la Gronda, una testrada progettata, finanziata, ferma da tempo, anche lì spero di riuscire a firmare in tempo la partenza dei lavori, perché la cosa drammatica che ho trovato al mio Ministero, perdonatemi questo minuto, è che non mancano i soldi, ci sono i soldi, ci sono i progetti e non partono i lavori, cioè la cosa che mi fa impazzire non è la mancanza di soldi o la mancanza di progetti, ci sono i soldi, ci sono i progetti, ma la roba li ferma da 20 anni, c'è una diga nel cuore della Sicilia e quest'estate non so quante volte Ettore mi ha chiamato per il tema siccità e non è possibile e siccome adesso è autunno, arriva l'inverno ma poi torna l'estate e quindi prevenire è meglio che curare, mi ricordo le telefonate quest'estate il Lago d'Idro, il Garda, Como, la Bassa, il Riso e quanti danni ha fatto questa maledetta siccità, quindi proviamo a prevenire eventuali altre siccità e siccome l'acqua piovana noi la tratteniamo solo nel 15% dei casi, occorre fare degli invasi, occorre fare delle dighe, sono decine di invasi e dighe ferme, non si capisce per quale motivo, ce n'è una in Sicilia e la Sicilia ha fame, ha sete di acqua, i cui lavori sono cominciati nel 1983, io andavo in terza elementare nel 1983 e adesso per curiosità ho chiesto una relazione tecnica, però mi ha detto, però Ministro stia tranquillo perché siamo già al 95% dei lavori fatti, dico cazzo in 40 anni siamo già al 95%, manca solo un 5% di lavori, d'altronde in 40 anni non puoi pretendere di finire una diga, lì a volte ci sono i comitati del no, io penso che chi ha scelto la Lega, chi ha scelto il centrodestra, chi è in questa sala abbia scelto i sì, quindi io ascolto tutti, ho rispetto per tutti, però se uno che mi dice no mi ferma al futuro la salute, il lavoro di cento persone che sono per il sì, io tiro dritto come un treno perché i no hanno bloccato questo paese, abbiamo bisogno di correre, abbiamo bisogno di viaggiare, abbiamo bisogno di lavorare, abbiamo bisogno di energia tutta, abbiamo bisogno di biomasse, abbiamo bisogno del nucleare perché non possiamo essere l'unico grande paese al mondo che si autocastra dicendo di no al nucleare e abbiamo bisogno anche di sognare, quindi la Lombardia ha fame di strade, i ponti sul fiume Po, anche lì ho chiesto un dossier su questi benedetti ponti interrotti da troppo tempo, ho sentito il sindaco di Vigevano, abbiamo trovato, lo diciamo sottovoce, ma abbiamo trovato 5 milioni di euro per il ponte di Vigevano e per i lavori sulla Vigevano-Malpensa, quindi non ci stiamo annoiando, hanno trovato un acquedotto romano in Valtrompia, ci sono quei 6 chilometri di bretella in Valtrompia che è una delle zone più industrializzate, con lavori rallentati perché ci mancava anche l'acquedotto romano e quindi metti in sicurezza l'acquedotto romano e corri e poi quello di cui parlano da 54 anni che sarebbe l'esempio più incredibile, eclatante, innovativo, rivoluzionario dell'ingegneria italiana del mondo, è un po' lontano da Treviglio, però io sono testone, quindi finiamo di fare tutto quello che la Lombardia, il Veneto, il Piemonte, l'Emilia hanno bisogno di fare, però nel 1969 partirono i primi atti per il ponte che unisce la Sicilia al resto del Paese e io vi dico che siccome siamo testoni dopo 54 anni cominceremo i lavori per qualcosa che porterà gli ingegneri di tutto il mondo a lavorare, a studiare in Italia. Adesso funziona il contrario, ci sono gli ingegneri italiani che vanno a fare ricchezza, vanno a fare opere pubbliche avveneristiche in giro per il mondo, io voglio che l'Italia torni a essere un polo di attrattivo per gli Elon Musk, per gli ingegneri, per i produttori e per gli agricoltori e quindi io penso che questi 28 giorni siano un antipasto di quello che ci aspetta, grazie per essere qua, mai mollare e andiamo fino in fondo. Viva Trei e viva la grande e gloriosa provincia di Bergamo! Tutti conquistati! A Matteo Salvini va anche il nostro cesto di prodotti tipici tradizionali orobici, quindi è insomma apprezzato, sì apprezzatissimo. Avrete notato però la dieta, o no? Vabbè sì, sì, un piccolo assaggio, ecco, a grande richiesta volevano anche salire...